dei mesi. In questi mesi sono successe tante case, iniziando dal Consiglio europeo di febbraio, tante cose impreviste. L'Italia è stata colpita in maniera particolare dalla pandemia del coronavirus e molte persone hanno perso la vita. L'Italia ha fatto grandi sacrifici e noi siamo d'accordo sul fatto che questa pandemia è arrivata senza che nessuno ne avesse colpa. Quindi il nostro compito è quello di superare queste conseguenze in maniera solidale. Gli italiani hanno avuto una disciplina ammirabile, una grande pazienza, hanno superato queste difficili settimane. In Germania ci sono state tanti video, tante immagini che ci facevano vedere che gli italiani alla sera cantavano sui terrazzini per farsi coraggio a vicenda e quindi noi vogliamo in grande amicizia e affetto portare avanti i colloqui, le trattative di Bruxelles in modo che tutti abbiamo l'opportunità di superare assieme questo disastro umanitario ma superando anche le crisi economiche e sociali e superare tutto ciò bene. Lo dico rivolgendomi anche alle cittadine e ai cittadini in Germania. La Germania, come l'Italia e gli altri Stati membri, ha un interesse a che il mercato unico funzioni. Abbiamo visto che se le catene di valore aggiunto non funzionano, sono distrutte, che questo colpisce noi tutti. Quindi noi allo stesso modo siamo responsabili a che noi usciamo da questa situazione positivamente per l'Unione Europea e tutti gli Stati membri. Quindi non dobbiamo tutelare solo la salute ma anche ricostruire economicamente. Ne abbiamo parlato che la pandemia non è finita, non c'è un vaccino, non c'è un farmaco ma c'è soltanto la possibilità che possiamo praticare nella nostra vita quotidiana, mantenere le distanze, essere ragionevoli e questo vale soprattutto per il periodo estivo delle vacanze e avremo un'estate dove tutto sarà differente, dove abbiamo particolari condizioni di lavoro, dove non ci sono gli spazi necessari di lavoro. Allora il virus è molto presente e dobbiamo evitare assolutamente una seconda ondata. A febbraio non siamo riusciti a raggiungere un accordo per il quadro finanziario pluriannale per l'Unione Europea, adesso abbiamo un compito ancora più complesso, abbiamo sia il quadro finanziario pluriannale che deve essere determinato o varato ma unitamente allo stesso modo anche varare il Recovery Fund oppure il cosiddetto Next Generation EU e noi entrambi appoggiamo queste intenzioni e questi progetti per quello che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi da rappresentare però la struttura per la prossima generazione in Europa, noi la Germania e l'Italia stiamo d'accordo con questa struttura di base. È una buona idea quella della Commissione di unire il tutto al semestre europeo, è una buona idea quella poi di trovare degli accordi con i singoli Stati membri e noi siamo anche d'accordo sul fatto che questi investimenti nel futuro devono avvenire e questi investimenti sono particolari, sono unici, senza precedenti anche per quello che riguarda le garanzie della Commissione per quello che riguarda poi anche un rimborso futuro. Ne parleremo venerdì per vedere come raggiungere un'opinione comune, ci sono ancora delle divergenze, non so se venerdì o sabato raggiungeremo un accordo ma sarebbe positivo per l'Europa se fosse possibile e entrambi noi ci adopereremo in questo senso, così ho interpretato il nostro colloquio, parleremo questa sera anche della Libia e di altri argomenti dell'agenda internazionale. Questi colloqui li ho sempre considerati molto preziosi e cercheremo di trovare in questo spirito una soluzione venerdì. Di nuovo grazie di essere venuto. Grazie davvero per questo invito, per questa calorosa accoglienza in questa cornice splendida. Oggi io chiudo il tour delle visite alle capitali europee, prima del Consiglio europeo. E' un passaggio questo importante, coincide anche con l'inizio della presidenza tedesca del Consiglio europeo, formulato alla cancelliera Merkel, ad Angela, i migliori auguri da parte dell'Italia. E coincide questa presidenza con un momento, un appuntamento storico di estrema importanza, non solo per l'Italia, per la Germania, ma per l'Europa intera. Abbiamo un negoziato davanti, un negoziato molto difficile. Ho sempre sottolineato la difficoltà del negoziato che stiamo portando avanti, ma nello stesso tempo mi darete atto che ho sempre cercato di, in modo ambizioso, rappresentare quello che era il Comune obiettivo. Cioè una risposta europea solida, forte, coordinata all'altezza della crisi che stiamo vivendo. Una crisi di portata epocale, che non è imputabile al comportamento di qualche singolo Stato. È una crisi simmetrica che coinvolge ovviamente una pandemia, ci coinvolge tutti e ci accomuna in questo destino, in questo destino di recessione, una recessione molto spinta, anche come testimoniano le previsioni economiche. Noi dobbiamo essere all'altezza, perché se adesso dicevo anche ad Angela, le istituzioni europee che sono sin qui pronunciate, parlo in particolare della Banca europea, parlo della Commissione europea e parlo anche dell'importante dichiarazione congiunta del 18 maggio, dove proprio tu Angela con Emmanuel Macron avete delineato una proposta, uno scenario di grande ambizione. Oggi tocca al Consiglio europeo, quindi venerdì ci incontreremo e i capi di governo e i capi di Stato dovranno mostrare la consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo, la consapevolezza di una risposta tempestiva per uscire quanto prima da questa crisi. I tempi anche sono importanti, perché ce lo insegna la storia, una risposta adeguata non tempestiva diventa di per se stessa inadeguata. Se noi oggi non riuscissimo in questo scorcio d'estate a chiudere, a finalizzare questa risposta europea, rischieremo di ritrovarci in grandi difficoltà, perché chiaramente ritarderemo i tempi della ripresa dell'Unione europea, ritarderemo quindi i tempi anche del ritorno alla massima competitività dell'Unione europea. Non dobbiamo mai dimenticare che noi non ci confrontiamo solo in una logica di mercato unico, ma ci confrontiamo anche su uno scenario globale. Ed è importante che la risposta sia all'altezza, perché l'Europa deve far sentire la sua voce. Sono in gioco i valori comuni oltre che gli interessi comuni. Se noi lasciassimo questa crisi correre, così come si sta manifestando, in poco tempo avremo una completa distruzione del mercato unico, perché chiaramente la frammentazione sarebbe inevitabile. E questo non conviene a nessuno, neppure a paesi come la Germania, che hanno uno spazio fiscale notevolmente superiore rispetto ad altri paesi come l'Italia. La frammentazione del mercato unico sarebbe una distruzione di valore anche per i paesi dal punto di vista finanziario più solidi, porterebbe alla distruzione delle catene di valore comune e quindi in una prospettiva di economia integrata sarebbe negativa per tutti. Ecco perché è essenziale che il Consiglio europeo prenda una decisione coerente con il livello di ambizione della proposta della Commissione e anche con la soluzione franco-tedesca. Dobbiamo dire sì subito a uno strumento e dobbiamo fare in modo che questa proposta sul Next Generation EU possa essere una risposta effettiva, adeguata. Quindi ben vengano tutti i criteri di spesa, tutte le regole di governance che rendono ancora più chiare, trasparenti e responsabili le scelte che i singoli paesi saranno chiamati a compiere per realizzare questi programmi ma queste regole, questi criteri devono permettere effettività di reazione. L'Italia poi come sapete ha iniziato già un programma di grande prospettiva, abbiamo già adottato un provvedimento normativo che introduce semplificazioni, tagli alla burocrazia, accelerazione della spesa per investimenti che in Italia non è mai stato realizzato. Ma vogliamo fare ancora di più ed è per questo che abbiamo avviato un piano di rilancio con progetti che peraltro sono assolutamente in linea sul piano anche della connotazione, se mi permettete, politica su quella che è la politica perseguita dalla Commissione europea. Quindi sono progetti che prevedono investimenti significativi per una innovazione digitale del Paese, per una transizione energetica ancora più consistente, un Green New Deal ancora più efficace che prevedono l'accelerazione dei tempi della giustizia a tutti i livelli, prevedono una società ancora più inclusiva. Questo è il tempo della responsabilità, questo è il tempo della solidarietà. Noi dobbiamo mantenere alto il livello di ambizione politica, non dobbiamo dividerci sulle visioni nazionalistiche perché l'Europa deve offrire soluzioni ai propri cittadini, non illusioni e paure. Quello lo lasciamo ai movimenti che hanno una chiara e marcata ispirazione nazionalistica, ma non sono ovviamente delle soluzioni che sono adeguate per affrontare questa crisi. E poi permettetemi di ringraziare ancora una volta la Cancellera Merkel perché il dialogo, come lei ha ricordato, tra di noi è sempre molto intenso e lo dobbiamo anche questa intensità del dialogo, questo continuo scambio di opinioni anche al fatto che i nostri Paesi sono dei Paesi tradizionalmente molto legati. Italia e Germania hanno intensa cooperazione, sono due economie profondamente integrate. Colgo quest'occasione per ringraziare ancora una volta la Germania, la Cancellera Merkel e tutto il governo per l'aiuto che ci è stato offerto, un sostegno morale ma anche concreto. L'Italia non dimentica che addirittura 44 pazienti sono stati trasferiti in Germania per essere ricoverati e curati nelle strutture ospedaliere tedesche. Nel momento di maggiore difficoltà la Germania si è mostrata presente e ha dimostrato cosa significa la solidarietà in concreto. Oggi lo scambio italo-tedesco è molto intenso, abbiamo delle catene di valore, delle filiere molto integrate, è uno scambio alla pari perché avviene tre regioni ad alto tasso di sviluppo e vorrei ricordare anche con questa occasione che la Germania rimane anche il primo paese al mondo per numeri di turisti stranieri in Italia. Fa piacere che proprio in queste ultime settimane sia ripreso, ci siano dei segnali di ripresa anche su questo fronte e siamo lieti quindi che gli ultimi dati anche durante questa pandemia. Adesso che l'Italia ha elaborato una risposta efficace ed efficiente a questa pandemia, l'Italia rimane al secondo posto come meta del turismo da questa stagione estiva fino a dicembre. E ancora vorrei mandare un saluto in questa occasione a tutta la comunità italiana e la seconda più numerosa comunità italiana nel mondo che vive all'estero. Parliamo di all'incirca un milione di italiani, una collettività estremamente variegata. Ci sono lavoratori che sono venuti qui negli anni 60-70, ma poi ce ne sono altri di terza, quarta generazione e ci sono i più giovani. Questo continua a rinsaldare i legami tra l'Italia e Germania e quindi è il migliore auspicio per l'intensificazione dei nostri rapporti. Grazie. Le domande iniziamo con la parte italiana, gli ospiti italiani. La prima domanda la fa Repubblica con Tommaso Ciriaco, prego. Volevo chiedere alla Cancelliera se esistono dei margini per modificare il meccanismo che attribuisce al Consiglio l'approvazione a maggioranza qualificata dei recovery plan nazionali come previsto dalla bozza Michel. Al Presidente Conte volevo chiedere se in assenza di queste modifiche l'Italia è pronta a bloccare l'intero pacchetto europeo. E poi Presidente, un salto a Roma, volevo chiederle se possiamo ormai considerare certa la revoca delle concessioni autostradali ad Aspi e se il Consiglio di domani, il Consiglio dei Ministri di domani sarà certamente decisivo in questo senso. Grazie. Sì, volevo rispondere. Charles Michel ha fatto una proposta. Questa proposta prevede che i paesi, i singoli stati membri, l'Italia, la Francia, la Germania, sulla base del semestre europeo, trattino con la Commissione sui mezzi del Brazilian Fund, quindi nei 310 miliardi come questi fondi, queste risorse vengano spesi per il rispettivo paese. Poi alla fine il Consiglio deve decidere con maggioranza qualificata. Mi sembra una buona soluzione che io potrei sostenere perché sono dell'avviso e lo so, Giuseppe Conte con la sua agenda di riforma ha dimostrato di essere proattivo per quello che riguarda l'Italia su come uscire da questa difficile situazione. Anche noi rifletteremo quali sono i nostri punti deboli e cosa fare con i fondi, appunto, che ci sia questa decisione a maggioranza qualificata nel Consiglio. Questo non è un ostacolo e credo che la proposta di Charles Michel sia a posto, sia ok. Per quanto riguarda la proposta di Charles Michel, è una proposta che ha un buon punto di partenza, nel senso che sicuramente recepisce il livello di ambizione politica che questa proposta deve contenere. Ci sono alcune criticità, non lo nascondo, che affronteremo a partire da venerdì. L'Italia è per criteri di spesa chiari, trasparenti. In un quadro europeo di solidarietà comune non stiamo chiedendo fondi per poterli poi utilizzare in modo arbitrario. Sicuramente discrezionale sì, non arbitrario. Sono due concetti diversi. Noi vogliamo quindi, e stiamo già lavorando per elaborare un piano, un piano di rilancio, vogliamo che questo piano, come giusto che sia, abbia l'approvazione delle istituzioni europee e dopo vogliamo anche che, come nella logica dei fondi europei, ci sia un costante monitoraggio e in questo siamo molto ambiziosi e accettiamo assolutamente la sfida, dobbiamo accettarla, ben volentieri, e che ci sia un costante monitoraggio sulla coerenza tra i programmi anticipati e l'esecuzione, l'attuazione degli stessi. Per quanto riguarda poi le più specifiche regole di governance, io sono anche favorevole al fatto che si è coinvolto il Consiglio europeo. Ecco, poi ovviamente senza entrare in dettagli troppo tecnici, ritengo che la fase attuativa non sia di competenza del Consiglio europeo perché un organo ovviamente, una dimensione intergovernativa a livello di capi di governo e capi di Stato non è questo il nostro compito ovviamente, entrare poi nel dettaglio dell'attuazione, ma i monitoraggi ci devono essere ed è giusto anche che si controlli, che ci siano regole chiare per assicurare la qualità della spesa. Su questo io stesso non voglio transigere. Per quanto riguarda la sua altra domanda, qui veniamo a una questione di politica interna, domani ci sarà questo Consiglio dei Ministri, discuteremo sicuramente, ci sarà un'informativa su questo tema e come ho detto è una decisione che deve coinvolgere tutto il Governo, tutto il Governo deve essere messo nella condizione di conoscere i dettagli di questa vicenda. Ho già anticipato alcune valutazioni, non mi nascondo, adesso non voglio tornarci sopra, diciamo che tutti i Ministri domani saranno in condizione di conoscere i dettagli di questo dossier e quindi potremo, sicuramente c'è necessità di adottare una decisione perché ormai questa vicenda si trascina da troppo tempo e l'incertezza politica non giova né allo Stato, al concedente né al concessionario. La prima domanda al Presidente del Consiglio, all'inizio della crisi nel suo Paese ci sono state delle irritazioni per quello che riguarda la Germania, anche per quello che riguarda il blocco degli aiuti, i Corona Bonds, volevo sapere se questa irritazione è passata e se lei a livello politico si sente sostenuto dalla Germania sufficientemente. Lei è cancelliera, lei ha detto che potrebbero essere le conclusioni del vertice, qual è la sua valutazione, 50-50? ha una visione positiva e non può immaginare che il rapporto tra sovvenzioni e prestiti va più verso i crediti per accontentare anche i quattro più frugali? Guardi, chi ha delle responsabilità politiche non deve mai assecondare le reazioni emotive, deve esprimere una strategia, deve avere anche la capacità e la responsabilità di orientare anche l'opinione pubblica, il dibattito verso le soluzioni e non verso reazioni, alimentando reazioni emotive. Ecco perché le dico che quelle reazioni emotive a cui le accenna, che ci sono state anche all'inizio, lasciano il tempo che trovano, non sono state affatto assecondate ovviamente da me, dal Governo, ma chiaramente poi si assecondano, cambiano nel corso del tempo. Ricordo ad esempio che all'inizio, quando questa pandemia è esplosa in Italia, c'è stato un momento terribile che noi abbiamo vissuto, in cui una settimana, dieci giorni addirittura, venivamo rappresentati come gli untori d'Europa. C'è stata questa sensazione molto spiacevole. Poi ovviamente si è compreso che questo virus era già da tempo e non solo in Italia ma negli altri paesi. Siamo stati tutti poi presto accomunati da questo comune destino. Quindi non è su queste reazioni emotive che si può costruire una politica, una seria politica. Il Governo italiano, ma anche in Italia, direi, non c'è stata parte dell'opinione pubblica alcun seguito rispetto a queste manifestazioni. Non ho molto da aggiungere. Non so se raggiungeremo un accordo o meno, a prescindere dalle quote. Non è ancora certo il percorso da fare è ancora lungo. Quello che vorrei però sottolineare è che quello che noi abbiamo previsto come fondo di ripresa, che sia qualcosa di poderoso, che sia qualcosa di particolare, che non sia diciamo troppo ridimensionato, perché il compito è enorme, gigantesco e anche la risposta deve essere poderosa. Non si possono stabilire in anticipo tutti i dettagli, ma deve essere uno sforzo notevole in modo che si possa capire che l'Europa in quest'ora difficile vuole essere compatta, una dimensione politica a prescindere dagli aspetti numerici. Permettetemi di rispondere perché ho mancato la risposta, adesso l'ho recuperata. La sua seconda domanda non vorrei essere frenteso. Se ci siamo sentiti, se mi sono sentito appoggiato dalla Germania. Beh, la domanda è importante, per cui non posso mancarla, ma posso mancare la risposta. Devo dire la verità, lo posso dire pubblicamente in modo molto franco e sincero. Tutte le volte che ho parlato con la cancelliera Merkel, anche in qualche passaggio in cui ci siamo ritrovati, semmai con delle differenti posizioni, ho sempre trovato una grande sensibilità politica, grande capacità di visione strategica. Ho sempre trovato in Angela, e te lo dico pubblicamente, la consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo. Ovviamente abbiamo delle difficoltà, un'Europa a 27, trovare una soluzione a 27 non è stato facile. Ci sono stati anche dei momenti in cui, addirittura la posizione iniziale dell'Italia e degli altri nove sottoscrittori di quell'iniziale lettera manifesto è sembrata una posizione visionaria, che non avrebbe portato a dei risultati, però alla fine, diciamo, la ragione politica prevale. La seconda domanda per la stampa italiana la fa Mario Franco Cao per la RAI. Cominciamo la cancelliera, buon pomeriggio. Lei pensa che possano esserci delle anticipazioni su Recovery Fund già da quest'anno, come chiede l'Italia? E poi avete parlato del MES e ritiene che la posizione attendista dell'Italia, come di altri paesi, possa pregiudicare il negoziato. Invece al Presidente del Consiglio chiederei, sulla falsariga è quello che ha chiesto il collega Ciriaco prima, se però le condizioni per l'Italia fossero troppo rigorose, al di là delle tecnicalità sulla governance, che cosa è pronto a fare il governo italiano? E poi, su autostrade ancora, facciamo che domani si decida la revoca. Chi si prenderà carico dal giorno dopo della rete autostradale? Anas è in grado di farlo? I 7.000 disoccupati potenziali di cui si parla, di chi se li prenderà in cura? E poi, le conseguenze sui mercati finanziari? Si parla di un probabile fallimento di Aspi, oggi Atlantia è crollata il 15% in borsa. Saremo in 27 attorno a un tavolo, con un impegno verso l'Europa e anche con un impegno verso gli interessi del proprio Paese. L'arte consiste nel gettare dei ponti, perché ci vuole l'unanimità. E questa è una responsabilità di cui noi siamo tutti consapevoli, però il risultato deve essere rispondere alle aspettative che abbiamo. Quindi ognuno ha la propria posizione negoziale, abbiamo la Presidenza, appoggieremo Jean-Michel per trovare una soluzione per quello che riguarda la posizione negoziale italiana. Non vedo la possibilità che possano mettere in pericolo il progetto. non si riesce a spegnere. Quindi non vedo che dobbiamo approcciarci così, mettendo in dubbio una posizione negoziale o l'altra. troveremo delle comunanze, anche con gli altri, come le abbiamo trovate oggi. È uno scambio importante, è importante valutare la situazione prima di iniziare il vertice per vedere appunto le diverse situazioni. Dobbiamo costruire ponti, letteralmente. Non siamo ancora arrivati e quindi ho anche detto che non so se basterà un incontro o se dovremmo incontrarci un'altra volta prima della fine dell'estate. Io sarei lieta se potesse essere soltanto un incontro, ma dobbiamo vedere. Ma non vedo difficoltà per quello che riguarda la posizione negoziale italiana. Per quanto riguarda le condizionalità troppo rigorose, io penso questo, che non è nell'interesse di nessuno, neppure di Paesi, ad esempio, che non dovessero sulla carta beneficiare del programma Next Generation EU, perché semmai nella prospettiva della pandemia sono stati meno colpiti o si rivelano ben resilienti, non è nell'interesse di nessuno introdurre condizionalità al punto da rendere di scarso impatto pratico e da compromettere l'effettività del sostegno che può derivare dell'efficacia di questo programma. Cioè sarebbe una follia. Quindi qui, voglio dire, sono criteri di razionalità. Se stiamo elaborando una risposta solida, coordinata, e poi questa risposta diventa impraticabile e inconcreto, significa, voglio dire, perdere tutti i tempo e veramente illudere tutti i cittadini europei, rallentare la ripresa europea e lasciare l'Europa meno competitiva. Quindi è una contraddizione intrinseca a cui nessuno può, che nessuno può assecondare, non è nell'interesse di nessuno. Visto che questo sforzo lo stiamo facendo è nell'interesse di tutti che ci sia una pronta ripresa che l'Europa, coinvolgendo tutti i paesi più colpiti, possa ritornare prontamente competitiva. Quindi su questo credo che ci ritroveremo tutti d'accordo. Per quanto riguarda Aspi, lei mi ha fatto una serie di domande che mi pongono nella prospettiva per risponderle di dover elencare cosa succede un attimo dopo. Adesso mi lasci confrontare con tutti i ministri, con il governo. Ovviamente se arriveremo a quello abbiamo delle risposte, delle soluzioni da offrire. Sicuramente ci sarebbero dei problemi in una società che è sottoposta a Revoca. Però attenzione, la sua prospettiva sia secondata significherebbe che è possibile continuare al dispendio di risorse pubbliche e bisogna dar prevalenza all'interesse privato. In una logica corretta di rapporti in equilibrio economico, giuridico e finanziario tra concedente pubblico e concessionario privato se c'è stato un problema di cattiva manutenzione, se ci sono stati problemi di inadempimenti, la responsabilità va sul management, soggetto ad azioni di responsabilità, non sulla cittadinanza che deve subire il ricatto di eventuali conseguenze di incertezza che avrebbero le decisioni pubbliche sul concessionario privato. Non so se sono stato chiaro. Grazie. Andreas Rinke, Reuters, l'ultima domanda. Una domanda ad entrambi, Cancelliera, Presidente del Consiglio, per quello che riguarda la costruzione di ponti. Alcuni hanno l'impressione a nord e ad est che si devono fare i ponti in quella direzione, quindi si vuole un accordo non curandosi più del principio della statalità di diritto perché ci sono problemi che hanno dei paesi che hanno problemi. Puoi immaginare che la combinazione tra prestiti e sovvenzioni venga cambiato per avere il consenso dei paesi frugali. Una domanda sulla Cina, Cancelliera. Lei teme o si aspetta che il rapporto dell'Unione Europea con la Cina peggiorerà se la politica rimane invariata. Gli esteri si incontrano oggi per quello che riguarda la Cina e quindi è senz'altro uno sviluppo preoccupante per quello che riguarda qualcosa che ha sempre valuto o avvalso un paese due sistemi e adesso questo principio viene messo in forse quindi è un punto di cui dovremmo parlarne con la Cina viste le due diverse opinioni è importante che soprattutto tra gli stati membri dell'Unione Europea troviamo una politica omogenea verso la Cina e una risposta comune è un approccio che volevamo portare avanti con il vertice Europa-Cina e vogliamo rimanere in contatto anche nonostante questo punto però è un problema difficile dobbiamo costruire ponti in ogni direzione è la seconda domanda però non cedendo i principi Charles Michel ha presentato una box negoziale buona una buona base anche per quello che riguarda la statalità di diritto però bisogna ripetere che i fondi pagati vadano raggiungano i giusti punti e che vengano anche concessi legalmente ne dovremo parlare sarà uno dei punti di cui parlare e dobbiamo costruire punti in ogni direzione siamo due di 27 ce ne sono altri 25 capi di stato di governo con idee anche diverse quindi ci sono tanti punti da costruire rispondo anch'io alla sua domanda guardi noi dobbiamo evitare che l'Europa diventi una distinzione tra i paesi del nord e del sud tra i paesi dell'est e dell'ovest il fatto di ragionare di ponti mi fa anche pensare noi non dovremmo aver bisogno di ponti in un mercato unico non dovremmo aver bisogno di ponti in un sistema dove con Schengen abbiamo affermato solennemente e reso praticamente attuabile la piena circolazione delle persone delle merci ecco allora che dobbiamo perseguire con questo negoziato interessi comuni ma non dobbiamo rinunciare ai valori comuni quindi dobbiamo assolutamente servirci più che di ponti delle autostrade che già esistono fermo restando e qui ritorno ancora alla questione italiana che mi è stata prima domandata che se ci sono ponti e questi ponti crollano dobbiamo saper sanzionare chi è responsabile di questo crollo ho voluto evitare il termine autostrada perché si parlava tanto di autostrade quindi non ho usato questo termine sono molto curioso di sapere come andrà il consiglio dei ministri domani e grazie 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 grazie